La mia pausa pranzo è diversa. Allora, buongiorno, oggi passeggiata l'esta in pausa pranzo, come ho sempre detto di prediligere questi pozzi di scolo, ok, sulle balze magari, guardare sulle balze, destra a sinistra. Dove c'è stato l'accumulo di umidità, ora per caso è già stato scavato tutto dagli animali, è stato rigirato. Però questo composto è normalmente, regala non troppa roba, ma uno o due begli esemplari di Aereus e quest'anno di Aereus ancora non l'avevo trovato. Non l'avevo, non l'avevo perché, eccola qua, guarda il bambolo. Ma dai, bambolo. E comunque sì, io gli do bacini e ci picchietta anche sopra, non me ne vergogna. Vai. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E comunque come primo Aereus. Bello, ehm? E primo fungo della giornata. Spettacolo! Lo sanno, va, va, qui calmo, va. Grazie a tutti. E comunque è ancora tutto il suo rumore, le unghie fanno proprio fatica a crescere, guarda questo, è improponibile da vedersi, questo è proprio il colpo d'occhio che ci arriva, vedi, se non c'era, era questo buino. Ah, il lino sano, eh? Aspettavolo. Duro, durissimo, è che non crescono. E uno qua, uno là, solo nelle fungaie. Questo sì però, eh? Vedi, lui è, però, eh? O vai? Vedi, ci sta quasi che passa sopra, eh? Guarda come sono frasca, eh? Mangiucchiati, eh? Guarda i lavori, guarda i lavori. Guarda i lavori, guarda i lavori, guarda i lavori, guarda i lavori. Guarda i lavori, 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 guard la mia si vedeva bene mangiocchiare è già finito aspettavolo eh sodi scottotitoli